Bene, grazie professoressa, un buongiorno a tutti voi, mi fa molto piacere essere qui, mi fa molto piacere vedere quest'aula così affollata, sono contento che ci sia curiosità nelle scienze perché sicuramente il nostro paese ha bisogno di scienziati, non solo di luminari ma anche di scienziati assolutamente mediocri. Taglio la presentazione perché so che il professore ha... no, adesso... Non scoraggiatevi, no, ci mancherebbe, qui abbiamo i migliori per fortuna. Dunque vi spiego bravissimamente come funzionerà oggi, abbiamo sei interventi di 15 minuti circa ciascuno che ci daranno un po' di flash su determinati settori delle scienze della vita oggi, ci sarà poi una sessione di domande per cui preparatevi perché non capita sempre nella vita di poter interrogare voi il professore, almeno è una soddisfazione che potreste prendervi oggi. Do subito la parola a Salvatore Oliviero perché so che deve scappare, come controlliamo i nostri geni? Breve viaggio nell'epigenoma, che non è il genoma, giusto? Ne parliamo adesso. Allora, ho messo questa diapositiva per farvi vedere, allora, più o meno il numero di caratteri che ci sono nel nostro genoma, 3 miliardi di paia di basi, i Promessi Sposi ve li avranno fatti studiare o leggere, no? Forse. Lì c'è un milione di caratteri, quindi vedete che 3 miliardi di paia di caratteri è moltissimo. Come riusciamo a gestire tutti questi caratteri e cosa ci dicono tutti questi caratteri? Cioè, noi ci troviamo di fronte a questo tipo di informazione, tante basi, e dobbiamo in qualche modo capire cosa c'è scritto, o meglio, le nostre cellule devono sapere cosa c'è scritto qui dentro, interpretare e fare qualcosa che noi chiamiamo fenotipo, cioè dimostrare, diventare qualche cosa di poi visibile, una cellula, un organismo, tutto intero. Il punto è che anche solo conoscendo tutta la sequenza del DNA non riusciamo a capire come questo viene interpretato. Per capire come questo viene interpretato dobbiamo considerare per esempio che le cellule del nostro organismo sono tante miliardi, diverse tra di loro. Tutti ci rendiamo conto che pelle sia diverso da pancreas, da fegato, però il nostro genoma è sempre lo stesso, sempre quei 3 miliardi di paia di basi. Come si fa a interpretare 3 miliardi di paia di basi in migliaia di declinazioni diverse? Qui interviene l'epigenetica. Qui era una diapositiva per farvi vedere che partiamo dallo zigote, abbiamo un'unica cellula, questa cellula comincia a duplicarsi, a duplicarsi in cellule che chiamiamo staminali e poi comincia a differenziarsi in cellule che sono tutte diverse tra di loro, nervi, fegato, quello che dicevamo, sangue. Come può la macchina cellulare interpretare questi dati e capire che deve differenziarsi in questo modo e in ogni cellula esprimere un sottogruppo di geni diversi? Lo fa grazie all'epigenetica che, come vi ho scritto qui, lo studio dei cambiamenti che si ereditano, quindi si eredita anche l'epigenetica, soprattutto durante il differenziamento, senza cambiare la sequenza del DNA. Quindi il DNA è sempre lo stesso, ma grazie all'epigenetica noi riusciamo a vedere cose diverse. In cosa consiste l'epigenetica? Consiste nel fatto che in realtà le famose quattro, sto andando troppo veloce, scusatemi, le famose quattro basi del DNA sono un pochettino di più. Prima di tutto perché alcune delle basi sono modificate e qui vedete questo ME che sta per metile, metile sta per un atomo di... perché va avanti da sola? Vediamo se riesco a tenerla ferma. metile sta per un atomo di carbonio legato a tre atomi di idrogeno, si chiama metile, il metano è un gas con un atomo di carbonio e quattro atomi di idrogeno. Bene, noi abbiamo questo metile sul DNA, sul nostro DNA, in alcune basi. Questo cambia. Potremmo anche dire, senza dire un'eresia troppo grande, che le basi non sono più quattro, A, C, G e T, ma forse sono cinque. A, C, C metilato, G, T. Quindi cominciamo a vedere che aumenta un po' la complessità del nostro genoma. E queste basi, se riesco a mantenermi sulla diapositiva, e queste basi hanno modificate, hanno una funzione che è quella di inibire il legame di regolatori. Quindi dove c'è questa modificazione dei regolatori non riescono a legarsi. Quindi vuol dire che quel pezzo di DNA non si vede più, è oscurato in qualche modo. Inoltre, il nostro DNA è tutto avvolto a delle altre proteine, che noi chiamiamo istoni o nucleosomi, le quali servono anche loro a mantenere il genoma compattato, compattato, prima di tutto, ma soprattutto a proteggerlo di nuovo da regolatori. Vediamo che cosa intendo. Intendo più o meno questo, che le proteine degli istoni sulle quali il DNA si avvolge possono essere modificate, e vedete che qui vi ho messo delle frecce verdi e delle frecce rosse, che vuol dire freccia verda, qui intendo segnale positivo, freccia rossa segnale negativo. Vuol dire che ci sono regioni del nostro genoma che sono ricoperte da segnali positivi e regioni del nostro genoma che sono ricoperte da segnali negativi, con la cromatina molto più compattata. Questa regione di sinistra è aperta, che vuol dire accessibile, questa regione di destra, chiusa, vuol dire inaccessibile. Quindi il genoma noi non lo vediamo così, le nostre cellule non lo vedono così, come ve l'ho fatto vedere io. Lo vedono così, cioè ne vedono solo un pezzetto, perché molte regioni sono coperte, sono isolate. Quindi in una cellula, ad esempio di fegato, si vede questa sequenza qui, e questa sarà utile per sviluppare, per esprimere qualche cosa. In un'altra cellula si vede questa. Quindi l'epigenetica nel genoma serve sostanzialmente a isolare delle regioni del genoma, permettere di essere viste dalla macchina cellulare ed altre essere ignorate. In questo modo ogni cellula vede qualcosa di diverso. E questo è un esempio di una fotografia al microscopio elettronico, dove vedete che c'è una regione molto condensata, scura, e una regione molto chiara. La regione molto scura è eterocromatina, la chiamiamo così, cromatina, cromosomi molto condensati, non accessibili alla macchina trascrizionale. Eucromatina accessibile. E cellule diverse hanno regioni diverse aperte. Questo è un esempio, questo è un embrione, e qui vedete l'embrione proprio, questa è la placenta, e vedete che qui questi segni rossi sono modificazioni epigenetiche che sono specifiche delle cellule dell'embrione e non della placenta. Quindi ci si differenzia già, si comincia a capire cosa sarà embrione, cosa sarà individuo, cosa sarà placenta. Questo signore, Waddington, ha ormai parecchi anni fa, negli anni 40, ha avuto questa idea. Una cellula dell'embrione, mano a mano che differenzia, deve scegliere dove andare in queste valli. E una volta che viene giù da queste valli, si differenzia, diventa una cellula sempre più differenziata, sempre più adulta. E l'idea è un po' questa, che la cellula embrionale, che noi chiamiamo totipotente, cioè che può fare qualunque tipo cellulare, ha tutte le possibilità aperte, può diventare qualunque cosa. Ma mano a mano che scende, che comincia a differenziarsi, si spengono tutta una serie di regioni genomiche e ne rimangono accese soltanto poche. Per arrivare a una cellula totalmente differenziata e lì vedete c'è solo un programma aperto e tutti gli altri spenti. Ultima cosa che vi voglio raccontare è, ma questo succede solo durante il differenziamento? No, succede anche rispetto all'ambiente che ci circonda. L'ambiente può modificare il nostro epigenoma. Un esempio classico che dovrei fare è quello del fumo. Il fumo di sigaretta modifica il nostro DNA, lo metila, e sappiamo esattamente dove. Quindi spegne dei geni e accende degli altri geni in maniera diversa da quello che fa, che noi, persone che non fumano, hanno. Quindi attenzione anche a questo. Questi sono gemelli identici, ma ognuno di questi potrebbe aver avuto una vita completamente diversa e il suo genoma può essere, il suo epigenoma può essere diverso. Questo è l'esempio classico di alcune modificazioni. Senza entrare troppo nel dettaglio, due gemelli alla nascita sono molto simili, vedete qui dove metto la freccia, per alcune modificazioni epigenetiche e quando arrivano all'età di 50 anni sono diversi tra di loro, proprio perché l'ambiente ha modificato il loro epigenoma. Quindi quello che mangiamo cambia il nostro epigenoma. Attenzione a quello che mangiamo. A me piace mettere questa diapositiva perché è interessante da molti punti di vista. Nelle api la peregina è diversa da tutte le altre e il motivo per cui è diversa è semplicemente perché mangia pappa reale. Quindi quello che mangia la peregina è diverso da quello che mangiano tutte le api operaie. Essere api regina vuol dire vivere il doppio degli altri, diventare più grandi e avere una funzione completamente diversa dagli altri. Quindi è importante. Come mai quello che mangia la rende regina mentre tutte le altre sono operaie? Perché cambia l'espressione di un enzima che modifica il DNA epigeneticamente. Quindi quello che mangia modifica un enzima e questo enzima modifica il DNA, aggiunge quel gruppo metile sul DNA in alcuni geni e non in altri. Anche quello che non si mangia cambia il nostro epigenoma e c'è un esempio classico che sicuramente avrete sentito o sentirete che è quello che è successo durante la seconda guerra mondiale. In Olanda a un certo punto mancava il cibo, la gente è rimasta in assenza, in carenza di cibo. Alcuni sono addirittura morti, altri come in questo caso sono risultati parecchio depressi anche perché può agire anche a livello del cervello. Ma soprattutto quello che è successo, che è stato abbastanza importante, è che anche i figli di quelle persone che erano state denutrite hanno avuto problemi. Quindi in qualche modo le modificazioni epigenetiche si possono anche ereditare. Non sappiamo ancora bene come, ma si ereditano. Il modello è un po' questo. Se durante la nostra vita embrionale noi siamo abituati a un certo regime alimentare, quando saremo nati, se quel regime alimentare si mantiene avremo esattamente lo stesso tipo di comportamento e gli geni giusti accesi o spenti per comportarsi correttamente. Quindi qui vi ho fatto l'esempio di McDonald's che tutti conoscete, oppure l'esempio di un regime alimentare molto povero e quindi se da adulti continueremo a avere un regime alimentare povero ci comportiamo nello stesso modo. Ma cosa succede se nella vita embrionale abbiamo mangiato pochissimo, la nostra madre ha mangiato pochissimo e poi noi mangeremo molto. Beh, il nostro epigenoma non sarà pronto, non è pronto e noi avremo problemi. E i problemi che cominciamo a vedere adesso nella popolazione di persone obese, cose di questo tipo. Io mi fermerei qui, mi sembra di avervi dato un po' di spunti. Se c'è qualche domanda, bene. Così. Sì, abbiamo due vallette, se non vi dispiace il termine, che possono passare al microfono, ci sono domande. Eccolo qua, subito, bene. Accendere, ok. Ma quindi il figlio di una persona anoressica tende ad essere anoressico avendo quell'epigenoma? Non ho detto che tende ad essere anoressico, io dico che tende ad avere problemi. Queste persone qui hanno avuto problemi, proprio malattie, perché avendo un epigenoma alterato tu non sai bene cosa può succedere dopo. Vediamo se riesco a chiuderlo. Altre domande? Ne faccio una io al volo, tanto sono qui anche per questo. Queste conoscenze sull'epigenoma ci aiuteranno a stare meglio quindi? Beh, la scienza serve a questo, no? Noi cerchiamo di capire come funziona il mondo, nel nostro caso gli organismi viventi. Noi in particolare studiamo i meccanismi molecolari con cui sono regolate le cellule. Una volta che abbiamo capito questo, possiamo poi applicarlo in qualche modo. Prima di tutto comprendere, poi applicare. C'è una domanda qui? È acceso? Ok. Sappiamo che anche la medicina si sta muovendo sull'ambito dell'epigenetica per il controllo delle malattie, soprattutto oncologiche. Prima lei ha proiettato una slide in cui fa vedere sia la metilazione, sia l'acetilazione del DNA. A che punto sono le ricerche? Si guarda più al controllo di metilazione e demetilazione o anche alla fase acetilazione, quindi accensione dei geni? Grazie, è una bella domanda. In realtà dipende dal tipo, visto che i tumori sono tante malattie diverse, in realtà quello che si fa, che adesso va di moda a dire medicina di precisione, si va a guardare in quel tipo di tumore quali sono le alterazioni. Ci sono tumori in cui le alterazioni sono prettamente genetiche, quasi sempre ci sono alterazioni genetiche, però ci sono dei tumori dove ci sono anche, e in maniera preponderante, modificazioni epigenetiche. Inoltre, anche quando ci sono solo mutazioni di tipo genetico, questo comunque cambia l'epigenoma e quindi ci sono tutta una serie adesso di medicinali che modificano un po' l'epigenoma, proprio vanno a modificare l'acetilazione, la metilazione, eccetera. Bene, altre domande? Quindi tipo le intolleranze alimentari sono legate all'ereditarietà dell'epigenetica? Probabilmente sì, però bisogna vedere, non vi ho fatto vedere che ognuno di noi è diverso da ognuno degli altri per circa 3 milioni di paia di basi, sui famosi 3 miliardi, quindi siamo diversi geneticamente. Alcune delle differenze che determinano le intolleranze sono dovute a mutazioni geniche, che poi possono alterare anche l'epigenoma. Se non ci sono altre domande lasciamo andare il professore che deve andare a fare lezione e lo salutiamo con un applauso.